Ciao a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a parlare di un argomento che mi avete chiesto in tanti. Il video in cui vi spiego come scegliere il miglior monitor per la console Next Gen è letteralmente esploso sul mio canale. Sono stati tantissimi feedback positivi e ringraziamenti, ma soprattutto ho notato che tra i commenti è emerso un particolare dubbio, ovvero cosa devo scegliere per la Next Gen? Il monitor che mi hai consigliato tu oppure un televisore? Qual è la scelta migliore? Cosa faccio come upgrade? E tra l'altro ho notato che c'è molta ignoranza palesata per quanto riguarda che cos'è un monitor. Un'ignoranza che mi spiego col fatto che il monitor è un dispositivo molto particolare. Perché? Perché di solito compra un monitor che ha un pc come quello alle mie spalle, quindi un pc fisso, ma la maggior parte degli utenti di solito usa un computer portatile, usa un cellulare, un tablet e quindi non necessita realmente di un monitor. E quindi da ciò nascono molte domande che a me possono sembrare banali ma che in realtà non lo sono. Per cui sto seriamente pensando di fare una serie di video dedicati. In ogni caso, se avete già deciso per esempio cosa scegliere tra un monitor e un televisore, vi lascio due video che ho già fatto. Quindi come scegliere il monitor e come scegliere il televisore che vi permettono di capire bene quali sono i parametri da andare a valutare nell'uno o nell'altro caso. In questo video invece andiamo a vedere quali sono le differenze in termini di prestazione, resa dell'immagine e qualità finale. Quindi cosa comprare tra un tv e un monitor, soprattutto per chi gioca. Ma poi vediamo che la scelta si può estendere un po' a qualsiasi argomento perché un monitor si può usare per tanti contesti così come anche al televisore potete senza problemi collegarci un computer. Anche il vostro portatile dipende sempre dal tipo di utilizzo. Ma prima di addentrarci in questa annosa questione e cercare di risolverla, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivare la campanellina delle notifiche. In modo da non perdervi tutte le prossime novità, soprattutto in questo periodo e tra poco c'è Black Friday, mi raccomando seguitemi perché di novità succulente ce ne sono davvero tantissime. Poi se volete potete seguirmi anche sul canale Telegram dedicato alle offerte, il link ve lo lascio qui sotto nella descrizione. Non spam assolutamente, non mi interessa pubblicare 15-20 offerte al giorno, vi dico solamente quelle che reputo più interessanti e soprattutto sconti veri basati su prodotti che ho già testato. Quindi dateci un'occhiata e fatemi sapere. Se avete feedback e critiche costruttive me ne fate qui sotto nei commenti. TV o monitor? Quali sono le differenze? Cosa devo scegliere? Iniziamo a fare una disamina un po' di queste tipologie di dispositivi. Iniziamo dal televisore che forse è quello a cui tutti siamo un po' abituati perché è un elettrodomestico che c'è in tutte le case degli italiani o almeno in quasi tutte. I televisori oggi sono per la maggior parte con risoluzione 4K. Cosa significa questo numero? Che hanno 3840 pixel sul lato orizzontale e 2160 pixel sul lato verticale. La risoluzione 4K ti permette di avere tanti dettagli. La risoluzione però non è un parametro che ti permette di capire la qualità dell'immagine che dipende da altri fattori. Ovviamente non mi addentro troppo nell'argomento perché l'ho già spiegato molto bene nei due video dedicati che ci sono nell'i in alto qui a destra. Mentre per quanto riguarda i monitor abbiamo ancora tante risoluzioni diverse. Quindi la Full HD 1920x1080 pixel. Abbiamo la Quad HD volgarmente chiamata 2K quindi 2560x1440 pixel. E poi abbiamo ovviamente anche il 4K ovvero 3840x2160 pixel. So che già magari vi state già confondendo con tutti questi numeri ma vi prometto che durante il video ce ne saranno molto pochi. Quindi da un lato le tv offrono maggiormente risoluzione 4K. Dall'altro lato i monitor invece offrono un più ampio range di risoluzioni. Perché? Perché il monitor va scelto molto in base al tipo di utilizzo. Per esempio se io devo principalmente usare Word o le email o navigare sul browser non avrò bisogno di un monitor magari ad elevatissima risoluzione. Mi invasto un monitor Full HD quindi spendo di meno. Se invece ho bisogno di visualizzare tante componenti, di lavorare con tante finestre aperte una vicino all'altra, allora ho bisogno magari di una risoluzione un po' più alta. Se voglio giocare avrò bisogno di una frequenza di aggiornamento più alta e quindi dovrò spendere di più e prendere un monitor di fascia un po' più alta. Di solito però per quanto riguarda i monitor abbiamo tre diagonali principali che sono la 24 pollici che è l'ideale con risoluzione Full HD. Abbiamo i 27 pollici che sono l'ideale e prendere un pannello 27 pollici con risoluzione Quad HD. Questo perché? Perché se prendete un 27 pollici Full HD i pixel li vedete, può risultare fastidioso. Mentre per quanto riguarda i 32 pollici di solito sono risoluzione 4K. Mentre i televisori invece abbiamo un range molto più ampio di diagonali. Andiamo dai 32 pollici fino ai 98 pollici passando per i 48, 49, 50, 55, 65, 72, 75 pollici. Insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Ovviamente sono molto più costosi perché il pannello è più ricercato. Nel senso che è necessario integrare più tecnologie all'interno del televisore affinché questo funzioni e garantisca una determinata qualità dell'immagine. Per darvi un riferimento, un monitor per grafici diciamo per iniziare. Ma è comunque già un ottimo livello, può costare tra i 600 e gli 800 euro. Se invece vogliamo un televisore che garantisca una qualità dell'immagine simile a quella di un monitor da grafica, allora dobbiamo spendere anche 1800-2000 euro per una diagonale da 55 pollici. Ma da cosa sono dovute queste differenze? Innanzitutto dalle porte. Da questa qui, vedete? Questa qui è un cavo HDMI e ne abbiamo sentito parlare tantissimo con l'arrivo delle next gen. Tutti sono messi in bocca questa HDMI 2.1. In realtà è un po' una fuffa l'HDMI 2.1, ma non nel senso che è una tecnologia che non andava commercializzata, ma che in realtà è una tecnologia che è arrivata molto dopo rispetto alla tecnologia DisplayPort. E qui arriviamo alla macro differenza, quella davvero più grande che c'è tra un monitor di fascia medio-alta e un televisore. I monitor, infatti, se andate a vedere qualche recensione, hanno molti ingressi. Hanno sia ingressi DisplayPort, sia ingressi HDMI. Ma di solito gli ingressi HDMI sono un po' più, con prestazioni più basse. Questo perché? Perché il monitor nasce come dispositivo da collegare a un computer. E tradizionalmente i computer di fascia alta garantiscono prestazioni molto superiori a quella che è una console. Non dimentichiamoci che magari per un computer si possono arrivare a spendere anche oltre 10.000€, quindi avere prestazioni grafiche di fascia molto alta. Era già possibile giocare in 4K HDR con i computer, anche col massimo dettaglio. Mentre con le console siamo arrivati al 2020 per farlo. Questo perché? Perché la DisplayPort, che è arrivata alla versione 1.4, regge già da molto tempo, da circa 3 anni a questa parte, la risoluzione 8K 120Hz. Il problema nelle TV da cosa nasce? Dal fatto che nessuna TV in commercio ha integra la porta DisplayPort, ma solamente questa benedetta HDMI, che è questa qui, come vi ho fatto vedere, quindi questa forma un po' trapezoidale con gli angoli un po' smussati. Ed è arrivata sul mercato nel 2004, se non ricordo male. La porta HDMI però ha sempre avuto grosse limitazioni, perché ha una capacità di trasferire dati ridotta rispetto alla DisplayPort, che però è arrivata tecnologicamente dopo all'HDMI sul mercato e soprattutto ha un grosso difetto, ovvero quella che deve rimanere uguale a se stessa col passare delle generazioni. Quindi siamo arrivati all'HDMI 1.4, che poi si è declinata nelle versioni 1.4a e 1.4b, poi qualche anno fa è arrivata la HDMI 2.0, che a sua volta è diventata 2.0a e 2.0b. Solo di recente è arrivata finalmente questa HDMI 2.1. Ma cosa ha di speciale questa HDMI 2.1? Semplicemente riesce a trasferire una quantità di dati pari a 48 gigabit al secondo, ma questo cosa significa? Che riesce a gestire finalmente risoluzioni fino a un massimo di 10k. In realtà queste sono le specifiche massime che ovviamente poi i produttori cercano di gestire in modo da adattarle ai propri prodotti, ovvero i televisori. Quindi è questa la principale differenza. I monitor prediligono l'uso della DisplayPort, che già è in grado di gestire flusso in 8k, è in grado di gestire una maggior quantità di dati, è in grado di gestire tantissime altre informazioni in più. E proprio per questo i monitor hanno sempre garantito in realtà alcune prestazioni, che adesso analizziamo, molto superiori rispetto ad un televisore. L'HDMI 2.1 peraltro ha un grosso difetto. Dire HDMI 2.1 significa tutto e significa niente, in quanto un produttore può integrare un HDMI 2.1 anche mettendo una sola delle specifiche dell'HDMI 2.1. Per esempio una delle caratteristiche dell'HDMI 2.1 è il fatto di poter gestire l'HDR dinamico, ma quindi un produttore può decidere di implementare quella specifica e sfregarsene tranquillamente sia del 4K 120Hz e del variable refresh rate, quindi della capacità del televisore di adattare la frequenza di aggiornamento a seconda di quello che viene prodotto. Per questo l'HDMI è sempre stata una cosa, una porta, un ingresso un po' limitante. Invece la DisplayPort è sempre stata preferita soprattutto per quanto riguarda i videogiochi, ma anche l'utilizzo lavorativo, proprio perché garantisce anche una qualità dei colori molto superiore grazie alla capacità di trasferire più dati rispetto all'HDMI. Infatti di solito se andate a vedere i monitor, quelli che hanno un po' di sale in zucca lo collegano per forza tramite la DisplayPort. DisplayPort che ritroviamo in tutte le schede video, ma che non è mai stata messa né nelle console né nei televisori. Perché? Perché l'HDMI tra i partner fondatori, tra le aziende che hanno partecipato alla creazione dell'HDMI c'è Sony che casualmente fa anche una console. Ora però non scendiamo nel complottismo. Quali altre differenze ci sono tra un televisore e un monitor? La frequenza di aggiornamento. Cosa è la frequenza di aggiornamento? La frequenza di aggiornamento è la capacità del display di aggiornare, quindi di far vedere, detta proprio in parole povere per farvelo capire, un determinato numero di fotogrammi al secondo. Dire che è un televisore a 120 Hz significa che potenzialmente quel televisore è in grado di riprodurre un'immagine fino a 120 fotogrammi per secondo. Quindi cosa significa questo? Più i fotogrammi sono alti, più l'immagine sarà fluida. È sempre un bene, però assolutamente no. Infatti se andiamo ad informarci un minimo sappiamo che tutti i film, quelli che vediamo al cinema, vengono prodotti a 24 fps. Cosa significa questo? Che avere un fps più basso fa necessariamente schifo? No, semplicemente dipende molto da che tipo di resa e da che tipo di utilizzo vai a fare con quel dispositivo. È proprio per questo motivo qui che i televisori non si sono mai interessati a frequenza di aggiornamento molto elevato, così come le console, perché se l'industria cinematografica produce al 90% contenuti a 24 fps è inutile andare ad implementare un pannello con frequenza di aggiornamento maggiore. E per anni è stato così. I pannelli 4K 120 Hz sono arrivati solamente perché si sa da tempo che le console avrebbero supportato risoluzioni fino a 4K 120 Hz, ma la maggior parte dei televisori messi nel commercio, quelli di fascia più bassa, sono ancora con pannelli a 4K 60 Hz. Dall'altro lato i monitor invece da anni che hanno frequenze di aggiornamento anche superiori ai 144 Hz. Abbiamo pannelli e monitor che arrivano a 240 Hz ed altri che arrivano quasi a toccare i 300 Hz se non a superarli. Qui perché questo? Perché il monitor sempre grazie alla displayport supportava già da tempo risoluzioni elevate e anche frequenze di aggiornamento elevate. E questo gli ha permesso di svilupparsi in tal senso. E questo è stato reso possibile anche dal fatto che i produttori di schede video hanno sempre messo tanta potenza nei loro prodotti quindi è un'ottima da sfruttare al meglio tutte queste tecnologie ed effettivamente avere un monitor a 144, 240, 300 Hz e giocarci è tutta un'altra esperienza perché ti coinvolge davvero tantissimo in quello che stai facendo. Ovviamente anche qui va allo stesso discorso, è inutile avere un monitor a 240 Hz quando poi ci devi magari navigare nel browser o guardare un film. È totalmente inutile, non serve a niente e non andate a sfruttare minimamente quel monitor. Quindi tutto il discorso della frequenza di aggiornamento si riduce con cosa ci dovete fare, cosa ci dovete collegare. Molti per esempio mi hanno frainteso per quanto riguarda il monitor consigliato per le console dicendomi che è inutile andare a scegliere un monitor Quad HD 144 Hz per giocare con le console. Non è totalmente inutile, è semplicemente la scelta più ragionata se vogliamo andare a sfruttare la potenza delle nuove console che garantiscono frequenze di aggiornamento elevate. Questo non significa che scegliere un monitor 4K a 60 Hz sia una scelta stupida, anzi vai a sfruttare una risoluzione maggiore, un frame rate forse più stabile e vai a sfruttare magari anche l'HDR che alcuni monitor Quad HD sicuramente non hanno. In linea generale poi la grossa differenza che c'è tra un monitor e un televisore sono i tempi di risposta. E cos'è il tempo di risposta? È quel tempo che impiega il dispositivo, quindi monitor o televisore, a farvi vedere uno degli input che voi date. Immaginiamoci per esempio un gioco di guida, voi sterzate a sinistra e il tempo che intercorre dal momento in cui voi se premete sulla levetta per girare a sinistra e vedete quello stesso movimento sul monitor. Ora, la maggior parte dei monitor, sia da gaming che non, hanno tempi di risposta che sono da 5 millisecondi in giù fino ad arrivare a un millisecondo per quelli più performanti. Sono tempi che praticamente non vi permettono di capire, non vi permettono di apprezzare il lag perché il lag c'è sempre, però un millisecondo non siamo fisicamente in grado di capire quanto veloce sia. Voi invece immaginate che un televisore ha dei tempi di risposta molto più elevati ma quando dico molto significa tantissimo in più. I più performanti arrivano a circa 25-30 millisecondi di tempo di risposta ma stiamo parlando dei più performanti. Alcuni televisori arrivano a superare i 200 millisecondi di tempo di risposta questo invece significa che è un tempo apprezzabile. Due decimi di secondo voi riuscite a quantificare, riuscite a vederlo. Infatti, per esempio, se io faccio un sorriso, il vostro cervello per capire che io ho sorriso e ci ha messo esattamente 200 millisecondi. Poi, se volete, vi lascio un link su Wikipedia in modo da vedere e capire quanto siano effettivamente queste misure. Quindi, questo è un altro vantaggio che hanno i monitor rispetto alle TV quindi tempi di risposta più bassi che vi permettono di giocare molto meglio. Arriviamo dunque alle conclusioni. Il monitor ha dalla sua molto più range di risoluzioni quindi potete anche adattare il budget e dici io ho 200€, tranquillo, perché con 200€ puoi comunque prendere un monitor full HD a 144Hz con un'ottima qualità visiva e giocare comunque con le nuove console. Se invece hai un budget superiore, non vai a spingerti comunque sopra i 1000€ come invece dovresti fare per un televisore di ultima generazione che si aggirano tra i 1400 e i 2000€ se vogliamo un OLED o comunque un nanocell da elevate prestazioni dobbiamo spendere più o meno quella cifra quindi la prima cosa da valutare è il prezzo quanto ho da investire per fare questo upgrade e in base a quello capite subito se investire su monitor o se investire in un televisore se avete questo dubbio e avete 500€ andate a prendere un televisore 4K per giocare con le nuove console permettetemi un investimento inutile perché quel televisore 4K non avrà specifiche che vi permetteranno a parte la risoluzione non vi permette assolutamente di andare a sfruttare la vostra nuova console quindi il budget è sicuramente preponderante per quanto riguarda la scelta dopodiché, ripeto, il monitor dalla sua maggiore e minore ingombro e quindi se volete crearvi un piccolo posticino dove sapete che giocate è solo vostro sicuramente è una scelta più intelligente minori consumi, cosa da non sottovalutare perché un televisore assorbe molta più energia rispetto ad un monitor siamo nell'ordine del circa il 50% in meno molto dipende insomma da tutte le specifiche però consuma molto di meno e soprattutto il monitor ha dalla sua maggiore frequenza di aggiornamento a parità di budget e soprattutto minori tempi di risposta tempi di risposta molto bassi e quindi a cosa è adatto il monitor a chi vuole giocare competitivo a chi vuole ridurre gli ingombri a chi vuole comunque un'ottima qualità senza però spendere un'esagerazione con un nuovo televisore e quindi sono questi i tre casi in cui io suggerisco l'acquisto di un monitor ovviamente a seconda che poi abbiate un determinato tipo di budget ma vogliate per esempio ridurre gli ingombri nulla vi vieta di prendere un monitor 4k 60Hz HDR e quindi spendere quei 7-800 euro ma godere comunque appieno della potenza delle nuove console per quanto riguarda il televisore è sicuramente una scelta molto diversa il televisore lo consiglio a chi magari gioca per il giusto piacere di giocare quindi a chi vuole godersi per esempio il lavoro svolto dagli sviluppatori nell'ambito grafico in un determinato paesaggio per chi vuole magari godersi i dettagli di una determinata scena per chi vuole entrare un po' in quel mondo e vivere un'esperienza immersiva che solo una grande diagonale può dare con tutti i limiti del caso perché un televisore ha comunque tempi di risposta più elevati una frequenza di aggiornamento comunque minore rispetto al monitor e ovviamente avrà ingombri, consumi e costi molto più elevati rispetto al monitor sono queste le differenze principali che ci sono tra un monitor e un televisore il monitor va alimentato esattamente come va alimentato il televisore e si collega con un cavo assolutamente come si collega il televisore considerate che tutti gli ultimi monitor hanno comunque un HDMI 2.0 quindi supportano agevolmente l'HDR quelli compatibili ovviamente supportano le frequenze di aggiornamento elevato vengono riconosciuti tranquillamente dalle console e dopo tutto i monitor e i televisori hanno lo stesso compito ovvero visualizzare il video che viene emesso da una sorgente che può essere il computer, che può essere la console che può essere anche il vostro cellulare che può essere qualsiasi dispositivo in grado di produrre un'immagine anche una cornice digitale connessa tramite HDMI viene riconosciuta dal monitor e vi permette di riprodurre l'immagine fanno di base lo stesso compito lo fanno però in maniera profondamente diversa io personalmente prenderei un monitor per giocare a meno che appunto voi non vogliate vivere un'esperienza più grande avete lo spazio, avete il budget che vi permette di avere magari un salottino con un televisore di ultima generazione per giocare con le nuove console fatemi sapere voi cosa ne pensate io spero che questo video seppur lungo sia stato chiaro per capire che differenze ci sono tra un monitor e un televisore ne parliamo come al solito qui sotto nei commenti in descrizione vi lascio i link sia ai migliori televisori per quanto riguarda l'HDMI 2.1 e il gaming sia ai monitor che come nel precedente video io reputo il miglior compromesso per giocare e sfruttare appieno le nuove console e noi come al solito ci vediamo al prossimo video ciao